buongiorno ragazzi questa mattina ci troviamo a mezzano ferrate il mio progetto numero 5 al terzo piano in un appartamento molto grande ma insaldato io mi trovo in questo momento all'ingresso alla mia destra la porta il sigliorno come vedete è molto luminosa prendiamo due vasi stasi che funzionano in questa parte proseguiamo con la cucina veramente ampia questa è la parte dedicata al soggiorno anche qua due belle finestre a tablica come potete vedere hanno anche queste le tende ombreggianti proseguiamo nella prima camera da letto come vedete molto alta anche questa molto luminosa il vasi stasi in questa camera e con il telecomando per l'apertura per la scultura e anche per la tenda ombreggiante in questa parte invece abbiamo la la seconda camera da letto anche questa molto grande e proseguiamo nel bagno dalle dimensioni veramente capienti come potete vedere anche l'area lavandetta e qui potete vedere un ampio ripostiglio vi riassumo i dettagli di questo appartamento ci troviamo in viagobetti numero 5 al terzo piano l'appartamento è composto da un'ampia zona giorno con alle mie spalle la muro cottura poi due camere da letto il bagno molto grande con all'interno anche la lavanderia e il ripostito i serramenti sono con i vetri doppi a bagistas il riscaldamento è autonomo e ci sono due condizionatori per tutto l'appartamento 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 l'appartamento